buonasera ragazzi bentornati sul mio canale dai ragazzi se volete dare un contributo al canale mi raccomando pollice su e scrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto bene detto questo siamo appena rientrato da piacenza dove il pisa abbattuto di misura la feralpi salò bene che dire primo tempo fondamentalmente dove il pisa per 20 25 minuti ha detto la sua nata vicino alla rete è andata vicino alla rete ma poi niente di più si è spenta come un fuoco di paglia si è spenta e abbiamo subito siamo così l'iniziativa della feralpi salò fino allo scadere del tempo tutto si è svolto così alla fine no quindi nicolas ha fatto un po di interventi bene e poi uno lo farà anche nella ripresa la ripresa è iniziata fondamentalmente meglio per noi meglio rispetto alla fine della del primo tempo dove quindi poi abbiamo visto un gol un gol dove l'esperienza di veloso abbattuto un angolo e canestrelli con una bella elevazione ha marcato ha segnato il cartellino e quindi un pisa che è andato in vantaggio ma poi nello scorre del tempo ci sono stati i gambi ci sono stati i gambi poi caracciolo tour e piccinini e e poi barbieri per calabresi io dico questo non mi ha convinto c'è nel senso abbiamo vinto abbiamo vinto quindi tutti contenti sì siamo contenti sono contento bel veloso pignato ha detto la sua valoti ma clare io non ancora non ho ben inquadrato c'è questo giocatore non non l'ho ancora non l'ho ancora inquadrato moreo così e così è oggi moreo così e così può subentrata arena bene arena entrato bene colpito giusto io credo che il mister abbia lasciato questi giocatori per la prossima c'è per martedì quindi ci sarà un turn over quindi un cambio è un cambio di guardia scuola guardia sicuramente oggi le verbo visto un po meglio è sicuramente le verbo visto un po meglio beruato così e così solito nicolas bene nicolas calabresi non mi è piaciuto insomma più di tanto bene barbieri fine però ecco io dico questo dico questo secondo me questa squadra ha bisogno di lavorare ha bisogno di lavorare ancora perché non è possibile che dopo 20 25 minuti praticamente non riesci a fare più niente cioè non riesci più a essere aggressivo non riesce il diciamo così la squadra la squadra opposa squadra insomma chi incontri incontri prende prende piede questo non va bene non va bene nella ripresa il gol bene perché oggi ripeto una rete segnata al nostro difensore a canestrelli una buona una ottima elevazione su un corner battuto da veloce con tutta l'esperienza che abbia che a veloce oggi secondo me veloce il migliore in campo insieme a canestrelli perché poi alla fine questo però io dico questo non ci siamo bisogna lavorare bisogna lavorare perché perché non ci secondo me non ci siamo non ci siamo ancora da non è ancora il pisa che può dire la sua sicuramente ci vuole ancora del tempo senz'altro vanno odiati i meccanismi perché insomma in alcuni tratti in alcuni in alcune circostanze siamo si va troppo in difficoltà quindi non va bene così bisogna cercare di lavorare bene e bisogna cercare di migliorare questa situazione questo è quanto io non non mi dilungo oltre io vi dichiaro questo dichiaro di commentare perché vorrei sapere veramente quello che pensate di questa partita di quello che commentate quello che avete visto ecco perché io ho visto questo ho visto delle difficoltà quindi una squadra che ha bisogno ancora di lavorare di entrare siamo così nella mentalità di questo nuovo modulo di questo nuovo pensiero che ha aquilani io ho visto questo magari mi sbaglio è e vediamo vediamo se magari ci sarà un piglio diverso beh io per questo video ripeto mi fermo qua vi chiedo di commentare pollice su se vi è piaciuto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa alla prossima